Questo nostro Career Day è dedicato e intitolato all'intraprendenza. I protagonisti sono i nostri studenti e i nostri laureati. Che hanno motivazione, che si impegnano, che sanno quello che stanno cercando e vengono subito notate. Adesso passiamo ad un altro momento molto importante, che è l'Innovation Corner, centrato sull'auto-imprendizialità. Rountrader è nato dall'idea di creare una piattaforma di gaming del calcio. Ci stiamo occupando di integrare la pratica clinica tradizionale con il neurofeedback. La nostra idea, il nostro progetto d'impresa, ci interessano tre fattori. Energia, internet e freddo. Non esiste la possibilità di arrivare al termine di un'ultra maratona, che può anche essere lunga, 100 km a piedi, senza avere un momento nel quale il tuo fisico e la tua testa ti dicono che non ce ne hai più. E quel momento è quello nel quale metti in gioco tutto quello che hai fatto prima. E in quel momento si vede la differenza tra chi arriverà al traguardo e chi invece non ha un set mentale che gli consente di superare quei momenti. Ed è esattamente la stessa cosa che si prova nel mondo del lavoro.